Il stato dell'arte è che si sono trovati fondi, c'è una buona sicurezza sul budget minimo per varare un'operazione che ovviamente è sentita da una parte della città o qualcun altro un po' scettico, quindi bisogna una volta assicurate le risorse perfezionare come si sta facendo il progetto che in parte recupererà la tradizione, in parte avrà delle cose nuove evidentemente perché sono passati degli anni. Il tempo non è molto, lo sforzo che le associazioni stanno facendo insieme all'amministrazione comunale è abbastanza interessante, ma soprattutto per comprendere se varrà la pena investire in una manifestazione con maggiore carattere a livello estivo che è sempre stato un po' quello che abbiamo lamentato, cioè una grande manifestazione invernale come il carnevale, d'estate, tante cose interessanti ma da un punto di vista turistico, di richiamo, forse di accoglienza più che di richiamo perché poi si fa in un mese in cui gli alberghi sono tutti pieni, però ovviamente è un modo per raccontare la romanità anche da un punto di vista ludico, scientifico, culturale, sono tanti aspetti nella Fano dei Cesari perché poi le associazioni sviluppano anche una ricerca molto precisa da un punto di vista filologico e però ovviamente c'è anche il chiamare la città a un'edizione che va partecipata perché così il turista frequenta delle sagate interessanti e quindi può essere un meccanismo che può avere un futuro se gli si dà una struttura, una ricerca continua. Dal mio punto di vista la Fano romana, Fano dei Cesari, Fano Fortuna, vedremo adesso il titolo più giusto, deve raccontare la Fano romana, non tanto scimmiottare cose che sì possono stare nell'immaginario collettivo ma anche e soprattutto come si viveva Fano perché noi stiamo lavorando a livello archeologico col centro studio di Vitruviani, con le università per comprendere sempre meglio cosa fosse Fano, un importante municipio romano in quelle epoche interessanti e quindi possono essere coniugati i due aspetti, quello ovviamente del divertimento, della festa, ci mancherebbe altro, ma anche quello di una curiosità che il turista porta a casa come esperienza fatta a Fano dove c'è il più bel arco d'Augusto d'Italia, la cinta muraria meravigliosa, conservatissima, reperti nel sottosuolo fantastici da ancora continuare a indagare e quindi unire questi due aspetti perché da questo punto di vista potremmo avere un grande ruolo.